Fino al 25 aprile il Parco Pinocchio ospiterà la manifestazione Salerno in Flora promosso dalla Col di Retti Provinciale, un'occasione per apprezzare da vicino in collaborazione con Campagna Amica, Comune e Salerno Solidale il meglio dell'arte florovivaistica della botanica e dei sapori tipici con l'obiettivo dichiarato da parte degli organizzatori di avvicinare grandi e piccini alla natura e alle eccellenze del territorio. Siamo qui impegnati in questa bellissima manifestazione che è Salerno in Flora che ci vedrà per cinque giorni presenti al Parco Pinocchio e abbiamo inteso anche organizzare un momento rappresentativo a testimoniare anche la vicinanza di Col di Retti e quindi dei nostri produttori a questo parco e quindi intendiamo piantare un albero di limone, un albero di olivo che speriamo possano essere i primi di tanti altri che pianteremo nel corso delle prossime manifestazioni che terremo qui. Oggi qui abbiamo non solo la rappresentazione di tutti i produttori florovivaistici della nostra provincia salernitana ma anche i produttori che producono agroalimentare quindi le eccellenze dell'ortofrutta, della verdura, dei formaggi, dell'olio, delle carni e saremo qui a incontrare i consumatori e raccontargli la storia che dietro ogni prodotto c'è.